Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Ottenuto il finanziamento per il micronido nel Parco Fluviale di Teramo, prevede un progetto importante che permetterà un ampliamento e un ammodernamento della struttura, provando ad allargare così l'offerta formativa anche per i più piccoli. È stata una scelta ben precisa, legata alla programmazione complessiva delle scuole dell'infanzia del nostro territorio, quindi oltre al polo scolastico di Villa Momano, che sarà realizzato in modo pieno e completo. La casetta sul fiume costituiva e costituisce un investimento importante e significativo su quello che è un gioiellino del nostro patrimonio educativo e scolastico inserito all'interno del Parco Fluviale. Ci consentirà, attraverso questo finanziamento ottenuto, di renderlo un asilo nido a 360 gradi, quindi capace di rispondere a tutte le fasce dei nostri bambini, del nostro futuro. Quindi attraverso questo ampliamento, con un importo di circa 1 milione e 4, potremo anche allargare l'offerta a quella fascia di età, dai 3 ai 18 mesi, che oggi non è ricompresa, diciamo così, come utenza che può fruire di quello spazio, proprio perché mancavano alcuni spazi dedicati proprio ai più piccoli. Questo progetto si va anche ad integrare con la riqualificazione del Parco Fluviale, quindi diventa veramente una integrazione importante tra educazione, formazione, sostegno e aiuto e servizi alle famiglie e vocazione ambientale di un territorio che si conferma sempre più green. I fondi sono quelli del PNRR, i tempi saranno serrati, entro marzo bisognerà procedere con l'appalto, importante per l'amministrazione è stata la programmazione che ha permesso di reperire i finanziamenti. Seguiremo i tempi del PNRR, le due progettualità hanno un cammino diverso, quello della casetta sul fiume rispetto a Villavomano, ma ovviamente ci collocheremo all'interno del percorso del PNRR e devo dire che devo ringraziare i nostri uffici, ovviamente Giovanni Cavallari, il vice sindaco assessore dell'inizia scolastica, perché la programmazione che abbiamo messo in campo in questi anni e che ho voluto come sindaco ci ha consentito proprio di poter competere per ottenere finanziamenti del PNRR. Se non ci fosse stata programmazione, una progettazione vera, complessiva per il patrimonio scolastico cittadino, difficilmente avremmo potuto concorrere. Tanti comuni sono fuori proprio perché non si trovano in queste condizioni.